Non c'è posto per la croce nelle terre dei musulmani. Siamo a Batnaia, un villaggio totalmente cristiano, caldeo, 5.000 o poco più abitanti, oggi totalmente, totalmente deserto e totalmente distrutto. Il villaggio che più di qualunque altro nella piana di Ninive ha risentito dei combattimenti. La stima è che circa il 90% è totalmente distrutto. Adesso stiamo provando a raggiungere la chiesa, la chiesa caldea di Batnaia. E' tutto molto imperdo, si passa tra delle macerie, le devastazioni qui sono veramente assolute. Si vedono ancora ordigni inesplosi, ci chiedono di essere molto prudenti perché potrebbero esserci ancora delle mine. Siamo all'interno della chiesa, l'immagine parla in un modo assolutamente chiaro, non ha senso, raggiungere nulla. L'altare è completamente devastato. E' veramente difficile ipotizzare un rientro della comunità in una realtà di questo tipo. Grazie a tutti.